E' dedicata al riconoscimento UNESCO della cerca e cavatura del tartufo in Italia, patrimonio culturale e materiale dell'umanità, la 40esima mostra a mercato del tartufo di Valtopina in scena sabato 26 e domenica 27 novembre con un'anteprima venerdì 25. Il programma è stato presentato a Perugia martedì 22 novembre da Gabriele Coccia e Bianca Rosa Gallina, rispettivamente sindaco e assessore alla cultura del comune di Valtopina. Mirko Egidi, consigliere comunale con delega agli aventi e Giancarlo Picchiarelli, delegato del comune per il tartufo. Presenti inoltre Pietro Bellini, presidente del GAL, Valle Umbra e Sibillini, con il cui contributo l'evento è organizzato, e Antonella Brancadoro, direttore dell'Associazione Nazionale Città del Tartufo, di cui Valtopina è socio fondatore. A fare Dante prima venerdì 25 novembre alle 20.30 sarà una cena inaugurale a base di tartufo a cura della prologo di Valtopina, con intrattenimento musicale di carro bestiame. Il programma si aprirà sabato con attività che precederanno il taglio del nastro della mostra a mercato previsto al Palasport alle 12.30. Quest'anno, in occasione della quarantesima mostra a mercato del tartufo di Valtopina, abbiamo deciso di dedicarla proprio al recente riconoscimento da parte dell'UNESCO per la cavatura del tartufo. Saranno due giorni intensi, ricchi di eventi collaterali di qualsiasi genere, quindi vi invitiamo a partecipare, perché ci saranno veramente delle mostre d'arte, delle degustazioni per il Paese, attraverso l'Associazione dei Commercianti. Ovviamente abbiamo allestito un ristorante curato dalla nostra prologo e i tanti espositori che arriveranno da tutta la regione e anche qualcosa da fuori regione per mostrare i loro prodotti, i prodotti tipici del nostro territorio. Ecco, tanti anche momenti di riflessione. Sì, momenti di riflessione con degli incontri istituzionali, sia previsti per il sabato mattina e per il sabato pomeriggio, in cui si tratteranno gli argomenti legati comunque alla cerca del tartufo, quindi il tema rimane sempre centrale, quello del tartufo. Mentre nella domenica abbiamo predisposto un incontro per ricordare i 25 anni dal terremoto, dove abbiamo invitato le comunità che per prime sono corse in aiuto. Ecco, al centro della mostra rimane il tartufo accompagnato dai tanti prodotti del territorio. Senz'altro. Il tartufo è il protagonista di queste due giorni. E poi ovviamente da contorno ci saranno gli altri prodotti come il vino, l'olio, i legumi e le altre eccellenze del periodo. Sì, oramai questo è il nostro compito principale. Ci stiamo lavorando da circa tre anni su questa linea di finanziamento che abbiamo in campo con la 19.3, misura che abbiamo visto quest'anno, siamo alla conclusione dell'anno, quindi abbiamo attivato circa 35 progetti di collaborazione con i nostri soci che sono poi comuni e quindi credo che abbiamo contribuito a valorizzare queste iniziative in modo veramente eclatante e abbiamo anche sicuramente dato una spinta un po' a quella che è la conoscenza, la promozione di un territorio che è una buona fetta dell'Umbria.